Filippo Busin, il governo Renzi in questa legge di stabilità penalizza fortemente il sistema dei regimi minimi, perché? Ma non solo i regimi minimi, che abbassa per i professionisti addirittura l'asticella da 30.000 a 15.000. Noi chiedevamo di alzarla, figuriamoci, è stato un passo indietro e soprattutto lo rende meno conveniente addirittura del regime ordinario. Ci sono dei calcoli semplicissimi che dimostrano che se uno fattura 15.000 euro ha convenienza rimanere nel regime ordinario e non quello dei minimi. Ma poi c'è in generale un quadro penalizzante per le partite IVA e gli imprenditori in generale, come ad esempio l'inalzamento confermato dei contributi IMSS separati a 29,72, che ha già creato una trasmigrazione delle partite IVA verso i commercianti perché la cassa commercianti è più conveniente. C'è un governo che a parole si dice a favore dell'impresa, degli imprenditori, delle partite IVA, che sono l'embrione delle future imprese e che nei fatti però li penalizza, li bastone.